Ancora una volta, ciao ragazzi, eccoci tornati sulla FTB Immersion RPG, quello che è Ci sta insieme a me un'ambulanza, nonché anche Dario Cipeua e Frankie Sono tornato Ma le foglie, infatti dalle foglie, eccole qua Le foglie mi devo far dare Allora, l'ambulanza ha finito di rompere i coglioni Che cosa abbiamo fatto dall'ultimo episodio? Ci siamo intanto stabiliti in questa nuova base Che è un po' distante da dove eravamo alla fine dello scorso episodio, ma non tanto, siamo più o meno qua Poi abbiamo scavato un bel po', abbiamo scavato e abbiamo recuperato qualcosina Siamo riusciti a trovare un po' di lingotti di real mite Un altro po' ce li siamo fatti droppare dai ciclopi Insomma, siamo un po' più a posto Adesso faremo due set di armatura o uno, non so quanti ne vengono Dovebbe venirne uno, 26 Sì, quello sì Uno sicuro, ma anche due, mi sa E poi con ogni set dovremmo essere in grado di attaccare Briga con qualche mostro A quanto pare, oh cazzo, ho fatto una cagata Ho fatto una cagata, ho creato dei real mite Briggs Vabbè li puoi... No Come no? Eh no Se li metti? No Ah, bellissimo Yeeeh Che bello Prova, no, no, non puoi Che schifo Intelligente Eh, vabbè Mo questi real mite Briggs che facciamo, ce li attacchiamo nel culo Ma perché questa è la ricetta per fare l'elmo, ma non fa Eh, l'elmo si fa, no, al posto di come era prima Come quella, come la maglia, però al contrario Ah, quindi ci vogliono più lingotti per farlo Sì Che cazzo Non mi esce, mi sa Allora, come la maglia, al contrario Al contrario Il buco sotto Che figata, sembri un solero Eh È molto bello Non funziona, Frankie Ah, ma no, ne serve un casino, ne serve Che elmo è Sì Però sono molto principesco, mi piace Rivelissimi, ci papevo Ma parà per cosa Poi qua dentro ci stanno altri lingotti di real mite che stanno essendo cucinati Quindi ci papevo a Frankie Frankie, ci papevo a non merita armature Vaffanculo Se avete del legno, fate un'altra cesta Anzi, la faccio io, così Sistemiamo un po' di roba Perché io c'ho un sacco di armature, pezzi di schifo Che non mi voglio portare appreso, è molto brutta come cosa La metto qua, la metto Allora, ci metto dentro un po' di cobblestone Ci metto dentro la mia ex armatura E pochi pezzi che avevo Ehm Il real mite bricks Che non servono un cazzo Eh, basta dai, più o meno Ok Allora Consiglio che ci è stato dato Importante Vorrei ricordarvi da chi ci è stato dato Però non me lo ricordo Voi ve lo ricordate? Ehm, no Potrei andarla a vedere però Potresti andarla a vedere Vallo a vedere mentre io Andiamo a vedere Allora, consiglione C'è stato detto Oltre che di farci l'armatura di real mite Un'arma anche Per l'arma la faremo in seguito Credo, forse la possiamo fare Non mi ricordo Comunque c'è stato detto Di andare ad ammassare Le bestie acquatiche Nel mare Perché Uccidendole si riesce poi a creare Un'arma abbastanza cazzuta Dalla distanza Tipo un'ancora Una roba strana Quindi voglio fare quello Un'ancora Oh, non mi venere a basso Volevo spingerti Ehm Quindi il nostro obiettivo Per oggi sarà questo Ahia Renchi Eh, chi è? Questo qua ci ha scritto Che il tizio con la zucca È un mercante Eh, quello l'abbiamo imparato Ci ringraziamo moltissimo Poi Oh, vediamo C'è quello scuartatore No, c'è stato uno che ha scritto Se guardi un po' in fondo Nei commenti Ci ha detto proprio i punti Passaggi Quattro passaggi Cinque per Iniziare Eccolo Vi do dei consigli Come si chiama? Questo è De Isma 3000 Ok C'ha scritto Uno usate il comando Game mode Ok, lui lo ringraziamo molto Per averci dato dei consigli Veramente utili Continuate a scriverceli Poi Basta, non leggere tutto Andiamo Ehm Mo È notte Però Frankie Come si faceva Quella spada bellissima Che mi interessa Quella Quella che potremmo fare Sì Eh Devi fare tre spade di diamante Porca puttana Eh Gli slime ce li dobbiamo avere Ce li abbiamo Sì, ne abbiamo tre solamente Quanti ne servono? Sono altri tre Oh porca puttana Andiamo a cercare Ma gli slime sono rari Gli slime? No, nelle paludi Nei trovi un borde È vero È stato trovare le paludi Mi sa che ci siamo passati E li ho presi O in una caverna O in una caverna Non mi ricordo Quindi Che si fa? Si potrebbe anche dividere Ma non mi piace l'idea Facciamoci delle barche Andiamo di nuovo all'esplorazione acquatica Così È full È full Full armato Full pure io Allora Cipapewa che c***o Ma bellissimo il waypoint Cipapewa 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 Frenky Che cavolo è successo? Ma tu ci sei? Sì, sì Penso che Cipapewa sia crashato Cipapewa È rimasto nel lancio Non è crashato È deficiente Vabbè Fai la barchetta va Ok Fanne tre Non so se torna Quattro È morto definitivamente Falla pure per me È molto importante E Prego Allora dai Andiamo Imbarchiamoci noi Sì, sì Aspetto Vieni Questo lo lasciamo Cipapewa Secondo te sta imitando un albero Guarda Ah, ho capito Sta fingendo di essere un tronco Lo dobbiamo tagliare Allora Tagliamo No, non ci tagli Vabbè, andiamo Saltella È un albero strano Io direi di partire di qua Così magari troviamo una palude E riusciamo a prendere C'è un creeper lì sotto Aia Riusciamo a prendere I pochi slime che ci mancano E poi almeno una spada La facciamo Madonna La facciamo Preso danno Oddio Aiuto Franky Franky Porca puttana Che è? Eh, io mi giro Penso di avere aiuto Non ci sei Che hai trovato? C'è uno zombie No zombie Eh, vabbè Con tutta quell'armatura Che c'è Mi faccia avere il culo Non serve a un cazzo St'armatura Allora io parto Ah, imbecille Eccolo là Ci pappreva del cazzo Hai avuto un imprimo Però non è che torna E diceva Scusate ragazzi Non c'ero Faceva finta di niente Lo schifo Prendeci Pappello Al volo Nell'alto Veloce Negli abissi Andiamo va E rieccoci tornati Si può pensare un coglione Che cazzo Finalmente Nella palude Ci abbiamo messo un bel po' Cerchiamo a cercarla però Dai cerchiamo due slime Ammazziamoli e facciamo sta spada Va? Valora Sembra che non riusciamo mai a combinare un caso Siamo degli sfigati Eccoli gli slime Stanno qua Ma perché va a fuoco lì? Non so Ma sta armatura inutile? Aia Comunque è vero Fa schifo eh Aia E tu le deve essere più forte Ehm Sto morendo Per gli slime Gli schede Dio Madonna Ma non vale niente No Allora io ho cinque Quante ne servivano di palle di slime? Si Per una spalla Si Ok io ne ho nove Allora poi cosa serviva Frank? Ricordami Facciamo un tavolino Fai un tavolino Due spade Ah ecco Due o tre? Due o tre spade di diamante Ok Fai il tavolino Ce li hai? Fai il tavolino Il tavolino Il tavolino Ah faccio eh Allora Due spade di diamante Eccole Poi Dimmi Ehm Gli slime intorno Cioè Gli devi mettere Una sopra Una in mezzo Una sotto E là ti metti le slime Ma Ha tre spade di diamante Aspetta Mi sono casinato Fate due Fatene via dal tavolino Ladro Vedete perché Allora Le spade in mezzo In mezzo in verticale O in orizzontale Uguale Vertical Le circondo Oh che belle Questa schifezza Slime sword Si Eccola là Guarda un po' Eh È bellina Anch'io ne voglio una Oh Che cacchie è? Quanti danni fa? Eh fa male Undici Tu c'hai venti Mezza vita Bene Siamo riusciti a fare qualcosa di produttivo Purtroppo ne abbiamo solo una Com'è che ne abbiamo solo una? Perché Perché io ho perso i diamanti Hai perso i diamanti Sì Quando sono morto prima Che schifo Oh mio dio E vabbè Che quattro erano Ho capito Quattro diamanti Buttali via Eh buttali Ci papevo Non c'ha nulla Vero? No perché Ho ucciso uno squadro Ecco Ma io posso giocare Con gente del genere Non si riuscirà mai A fare niente Mai Qua è pieno di slime Ammazza i creeper con la spada Ammazza i creeper con la spada Dice quello là A che pro ammazzi i creeper con la spada? Dobbiamo fare la Quella cosa di là dei pesci Come si faceva a bagnare i pesci? Che dicevi? Con la canna da pe Aia con la canna da pe Proviamo Se non mi sbaglio Proviamo Io ce l'ho servito Quindi dobbiamo Potremmo Oh merda Ho toittato Fai una canna da pe Di nuovo Che di là A me mi rompo Fallo E non è o Non mi ricordo più Come si cazzo Tre così in obliquo E poi due sotto Tre così in obliquo E due sotto Due sotto Otto aspen Non sto capendo La tre così in obliquo Ah ok ho capito A canna da pe Eccola Promuo con la canna da pe Vado a vedere gli squali Ah ecco di qua sta Come si vagano questi strumenti Dove stai? Vieni di qua Vieni di qua Dove li dobbiamo Oh merda Non lo so Boh proviamo Ma dove lo proviamo a vagare Scusa Eh prima lo proviamo Vediamo se lo pesca Ok dove sta lo squalo Di qua Ecco lì tu vedo Oh questo c'è la pala Che ci fai con una pala Guarda come muoiono bene Con questa spada Allora Oh merda Stanno qua eh Sì Provo a vagare Ma se mi arriva E facciamo ammazza Come fa? Sì Fagli un buco Serve da fa Oddio Ho finita E mo? Ho finita E mo E mo siamo morti Ma scusa ma che cazzo stiamo Cioè è una balena Ma che cazzo Qua dentro Qua dentro Oh merda Ci può Ci può fare Sei un credito Aiuto Che vuole da me Qua dentro qua Si in questo buco Ci facciamo entrare la balena Ah la balena Si Si entra Ma non entra Perché non entra Aia Oh io ho due cuori La balena non entra Provo a tirarla Eccola Oh 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 Eccola entra Emo Ok entra Emo Aspetta eh Se ti avvicini Ti ammazzo E come cazzo fa Non ho capito bene Oh mi sa che sale L'ho hittata La stai prendendo Aspetta Recupero un po' di cuore E mi avvicino pure Lo lo Eccola Aia Azzo Ma preso Eh mi toglie Quasi tutta la vita Posso sopportare solo un colpo Eh devo ricaricare Vabbè comunque là dentro Con un po' di guido Ma come facciamo a ammazzarla Non 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 si può Cioè oh hai un arco Io ho i shuriken Creiamo altri shuriken Ho creato altri 64 E passa Ma è una cagata Vai vai io lo prendo da qua Eh vabbè è l'unica Oh io li ho buttati tutti Li li ho buttati Ah glieli butto tutti pure io Cazzo di ucci Balena di merda Voglio vedere cosa Cosa droppa Ok Nulla minimo Toglio Ne ho altri 60 Vai vai butta tutto E ormai È l'unica maniera Ma Ma è frustrante Quanto fa di danno uno shuriken? Quattro Perciò Ne devi fare 400 Eh ho finito Eh no 200 Come facciamo? C'è un creeper Oh facciamolo entrare dentro Dov'è? Aia E come la prendi tu ti prende lei Esci va via Io potrei fare il kamikaze Eh di tipo Quanti volte sei morto negli ultimi 30 secondi? 62 Ah porca puttana Eh non Una maniera Cosa facciamo? Qualcuno di voi ha ferro? Eh ferro no Eh nemmeno Quindi non possiamo fare Ma con più shuriken No io c'ho le frecce però Eh ma se le frecce Se gli tiriamo le ossa Proviamo le frecce Oh guarda ci vapevo Guardi con le frecce La sto prendendo un po' Oh da qua la vedo Da qua la vedo Venite Vai provare a colpirla La sto prendendo E non mi prende A posto A posto A posto Le ributta indietro Vai La uccidi Ci vapevo Sei un cretì Colpo di coda Madonna ma non muore Ma Ma quante cazzo Quanta 800 Ne ha di più di 800 Non muovermi eh Se mi muovi è finita È morta Oh è morto Vediamo Non è troppo Schifo Questa è questa Quanti ne ha Tre Tre whale finne Ci ne servono Tre ne servono Aspetta vediamo Ah noi dobbiamo Dobbiamo fare No ne servono due Altri due ne servono Ah Per fare E poi E poi I granchi Sì Sì Ne servono altri due E poi servono gli aquatic ingot Sì Mi sa che i granchi Vabbè Perché mi hai allagato Comunque dai Abbiamo capito Come si fa Basta bagarla E poi attaccarla Da un buco nel muro Diciamo che possiamo chiudere qua Per il prossimo episodio Magari avremo abbastanza Per farci stiarmi A lungo raggio Vi auguriamo una buona giornata Se la giornata di oggi Dovesse essere finita Mentre guardavate questo video Guardate quello domani Lion Frankie E ci papeva Out Out Ciao